Spero che la Raggi e Zingaretti si facciano da parte il prima possibile, perché non è possibile conciare Roma in una maniera così... E non è una questione politica, eh? Massimo, tu ti ricorderai che quando si votò per il Comune di Roma, io dissi che se fossi un residente a Roma, piuttosto che quelli del PD, voterei la Raggi, voterei i 5 Stelle, che almeno magari fanno qualcosa di nuovo, qualcosa di buono. Ora chiedo scusa ai Romani perché è una calamità naturale e la città messa così io non l'ho mai vista, quindi aspetto tanti Romani in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre. La Raggi è una bravissima persona sicuramente, un bravo avvocato, una brava mamma, una brava sportiva. Sì, ma non è capace di fare il sindaco Massimo, uno può essere una bravissima persona, ma per fare il sindaco di Roma devi essere capace di fare il sindaco di Roma. Virginia, se ci stai guardando con tutta l'amicizia, fatti da parte, fatti da parte perché la città è disperata.